ariete torna il sapore dell'armonia con voi stessi e con chi vi circonda comunicare diventa più gratificante e sapete esprimere le vostre opinioni con maggior pacatezza luna e mercurio positivi oggi amplificano la voglia di inserire una nota sentimentale nei rapporti toro cercate di frenare la tendenza all'ostinazione e a contrastare troppo ogni proposta che vi viene offerta probabilmente adesso siete inclini ad un certo nervosismo di fondo che esprime gli effetti nell'approccio un po spigoloso agli altri gemelli il transito della luna nel segno oggi ravviva la vostra emotività anche se non assume un carattere brillante ed esplosivo come spesso vi accade in ogni caso il vostro quadro astrale va programmando qualche buona novità e relazioni interpersonali più accattivanti cancro spendete energie nel ricomporre qualche inclinatura che si è verificata in alcuni rapporti personali o amorosi adesso siete alleggeriti da un carico astrale che ha provocato un po di difficoltà le vostre armi seduttive saranno efficaci leone il vostro cielo astrale si complica temporaneamente e vi rende più incerti la comunicazione con gli altri pare ostacolata ed è meglio mettere in pausa le trattative importanti oggi comunque una luna armonica solleva una certa positività inferiore vergine l'abbassamento di tono emotivo segna una giornata noiosa nella quale esaltate in automatico le complicazioni senza recepire le cose positive voi che siete particolarmente esperti nelle analisi critiche sappiate giudicare con obiettività le questioni bilancia giornata di buona sintonia intima che permette di espandere la vostra affettività e percepire la quotidianità come un cammino a volte tortuoso ma spesso foriero di opportunità le configurazioni astrali vi guardano in modo più benevolo e fortunato scorpione il momento assume connotati un po più complessi e consiglia di lasciare in sospeso alcune questioni inerenti lavoro e iniziative personali vi manca la lucidità necessaria e l'occasione giusta mantenete le posizioni su quanto acquisito sagittario una luna dissonante potrebbe mettere in discussione le vostre emozioni ed orientarvi verso una fredda e perplessa valutazione della vostra situazione sentimentale la tendenza a chiudere le porte provocherà un senso di isolamento che però vi siete procurati da soli capricorno è opportuno prestare attenzione al settore economico che vede un movimento positivo ma anche una certa altalena di alti e bassi dovuta a qualche spesa per spostamenti o fatti di natura comunicativa intellettuale rilassatevi mentalmente acquario un cielo astrale più armonico che va espandendosi aumenta la vostra esuberanza emotiva e comunicativa la voglia di prendere iniziative si fa più forte buone occasioni per chi vuole intraprendere nuove attività e per chi desidera allargare la cerchia delle conoscenze pesci il ritorno al materialismo pratico della vita diventa necessario esistono fatti e persone dai quali dovete guardarvi con opportuna accortezza per non scivolare in situazioni poco vantaggiose oggi le percezioni emotive sono sottotono glissate sulle discussioni buone stelle